Ecco una valida e meno affollata alternativa alla spiaggia, gli scogli e le scogliere, sinonimo di acqua cristallina. Code e disagi autostradali a parte, se si parla di scogli, Genova può dirsi fortunata. Questi angoli di paradiso sono disseminati ovunque nel mare antistante la città della Lanterna, da Ponente a Levante. Un'alternativa alla sabbia senza dubbio più dura, meno soffice e, a detta di alcuni, più scomoda. Ma i vantaggi delle scogliere per l'estate 2020 sono notevoli. Sebbene anche sulle scogliere non siano ammessi assembramenti, a differenza delle spiagge libere, gli scogli non saranno a numero chiuso. Per quest'anno, l'idea di gode essere in mare senza troppa gente attorno può far gola a tanti. Ovviamente, il fatto di scegliere gli scogli come location per le vostre scappate al mare non può esentare dal rispetto di tutte le regole di distanziamento per la salute propria e di quell'altrui. Anche perché agenti e volontari del comune di Genova pattugliano la costa avanti e indietro e intervengono per mandare via i bagnanti quando le distanze di sicurezza non saranno rispettate.